Tutto su Federico Guidi, non ci sono al momento alternative. Il Teramo ha puntato all'attuale tecnico della casertana perché in fondo ha buone speranze che si possa liberare dal vincolo con i rosso-blu campani dopo la vicenda relativa alla mancata presentazione della fideiussione in tempo utile per l'iscrizione al campionato 2021-2022. Guidi, che avrebbe altri due anni di contratto con il sodalizio del presidente D'Agostino, in caso di sentenza negativa dal parte del collegio di garanzia del CONI, vedrebbe il suo vincolo decadere in maniera pressoché automatica. Il Teramo a quel punto potrebbe fargli firmare il contratto per la prossima stagione. 4 del 3 marchio di fabbrica per il 44enne di Cerreto Guidi, le giovanini della Fiorentina e qualche parentesi con le nazionali Under-19 e Under-20 prima del passaggio in Lega Pro. Il Gubbio prima, la casertana poi. Con i ragazzi gigliati l'avventura probabilmente più importante in primavera. Riccardo Sottile, Gaetano Castrovilli e il nuovo acquisto del Pescara Julian Ianes. Tornando ancora più indietro Federico Chiesa, Jacopo Petriccione, l'ex Teramo Cedric Gondò e anche Simone Minelli, che questa stagione praticamente l'ha vista solo da spettatore. Esperienze con i giovani certo, ma anche la necessità a Teramo di fare il risultato perché il settore giovanile deve avere delle logiche, mentre la prima squadra decisamente altre. Guidi, qualora arrivasse a Teramo, dovrebbe fare affidamento su una vecchia guardia che ora si riduce a Mungo, Soprano, Arrigoni e, al netto delle varie trattative, anche Piacentini, Santoro, Cianci e Dechite. Niente Lewandowski. Al portiere polacco non è stato e non sarà proposto un nuovo contratto. Ma non credo, a Lewandowski ti rispondo io, non credo. Ma parlavo in generale, anche su altri, diciamo. Sì, ma anche perché lui queste sono domande troppe specifiche, è arrivato ieri, insomma, a fargli dare così. Sì, 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 però è... Non sa quello che dice il presidente, però, capito, che è un po' diverso. Poi comincerà il mercato in entrata che dovrà tenere conto della situazione attuale del Teramo che al momento vede ancora Iacchini solo al comando, visto che ieri si è lasciato andare ad un secco no comment su eventuali nuove trattative che ci sono, ma non così vicine alla chiusura. Prova ne sia la decisione di rinverdire la squadra e la dirigenza, rendendola più snella e meno onerosa. Il raggiungimento dei primi posti in un'eventuale riforma, che però allo stato attuale non c'è ancora e che forse Iacchini auspica, ma di cui non ha certezza, passerà anche dalle idee e dagli incastri a stagione in corso. Nuovo corso green e risultato alchimia complicata, ma non impossibile, a patto che molte situazioni si incanalino nella maniera esatta. In mercato arriviamo anche un po' in ritardo, su alcuni ragazzi giovani sono già andati da altre parti, però è pieno di calciatori, a mio avviso, validi, e è importante creare una struttura comunque tra noi, creare un buono staff interno, creare poi un bel clima con i ragazzi, ma insomma ci abbiamo buone idee. Con le eventuali uscite, se il Teramo riuscirà a monetizzare qualcosa, finora non ce l'ha mai fatta, allora la disponibilità sul mercato aumenterà. Musa, dalla prossima settimana, avrà il compito di conoscere l'organico in maniera più approfondita e rimpolparlo, perché ci sono ancora 38 giorni di tempo, prima del fischio d'inizio della prossima Lega Pro. Ricordati che il nostro signore diceva che gli ultimi saranno i primi.